Cosa trasmette questo film? Il film trasmette nella sua narrativa, è quello che la regia ha scelto di fare, in particolar modo in questo periodo storico che stiamo vivendo, che si accomuna molto a quello di Fradeghezzi, perché lui vive fino ad 800 e gli anni 50, in un periodo dove c'è la grande pandemia della Spagnola, le due guerre mondiali e quindi lui sente questo peso della sua ricchezza che bisognava donarlo, aiutare il prossimo. Un film, quello presentato in conferenza stampa, che ripercorre la vita spirituale del Frate e ricorda i personaggi a cavallo di fino a 800, come il compianto dottor Vito Fazzi, che operò per prima volta di cancro il giovane Fra Giuseppe, ritenendo che non sarebbe mai guarito, mentre costatò in seguito che la grande massa era sparita, anzi non esisteva traccia nemmeno dell'intervento, come se non ci fosse mai stato. Presentiamo oggi questa nuova opera, il film L'Uomo della Carità, perché questo titolo? Perché tutta la vita, nelle varie stagioni della vita di Fra Giuseppe, sia dalla fanciullezza, l'adolescenza, la giovinezza, e poi la scelta radicale, a 33 anni, di essere frate minore, ciò che ha guidato è l'amore per il prossimo, nonstante che lui venisse da una famiglia nobile, era conte della famiglia Ghiezi, e quindi Fra Giuseppe, attraverso quel segno visibile, la bisaccia, ha portato il profumo della carità tra la nostra gente, nei nostri paesi, dove veniva accolto ben volentieri, lo aspettavano, proprio perché questo profumo attirava.